320 persone e 230 veicoli controllati nelle zone più sensibili, un arresto, un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare, il sequestro di un chilogrammo di hashish e di duetti di cocaina e una denuncia a piede libero di due stranieri per violazione delle misure di sicurezza personale. È il bilancio dei controlli del territorio che hanno impegnato le nove stazioni dei carabinieri della Compagnia di Cantù e la tenenza di Mariano Comense nel fine settimana a Cantù e nei comuni limitrofi. In particolare i militari della tenenza di Mariano al termine di una serie di indagini hanno notificato a un sessantenne straniero un'ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e un contestuale di vieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle vittime a causa di maltrattamenti nei confronti della moglie e dei figli. Eseguito inoltre è un ordine di carcerazione nei confronti di un sessantunenne già noto alla giustizia che dovrà scontare più di due anni per una serie di rapine aggravate commesse tra i mesi di aprile e luglio del 2022. I militari del radiomobile a seguito di controlli nei centri commerciali hanno identificato e denunciato a piede libero un 19enne straniero già noto alla giustizia per violazione del divieto d'accesso alle aree urbane. Il giovane per un anno aveva infatti il divieto di accedere e stazionare in prossimità di tutti i locali di intrattenimento, bar e ristoranti di Cantù. I carabinieri hanno identificato e denunciato a piede libero anche un altro ventenne di origini straniere senza fissa dimora e già noto alla giustizia poiché ha violato gli obblighi imposti dal foglio di via obbligatorio dal comune di Cantù per tre anni. I militari della stazione di Mozzate infine nel corso di un servizio antidroga hanno sequestrato un chilo di hashish e due etti di cocaina abbandonati da due spacciatori durante un inseguimento tra il centro di Mozzate e l'ingresso dell'autostrada A9.